Per quale motivo un elettore, un iscritto del Partito Democratico dovrebbe votare Elisabetta Rappetti al prossimo congresso? Ma perché praticamente con oltre le correnti noi rappresentiamo, abbiamo dato inizio a un vero e proprio metodo di politica territoriale attraverso degli incontri che sono iniziati soltanto per il gusto della partecipazione, del confronto ma che sono diventati poco alla volta, per volere di tutti, un percorso congressuale. Noi parliamo di casa nostra, parliamo del territorio, come ho detto in più occasioni non siamo legati ai pensieri di Renzi, Cuperlo o Civatti ma la nostra è una progettazione territoriale riguardo alle esigenze della nostra città, della nostra provincia, soprattutto delle vallate parliamo di fusioni di comuni, parliamo di emergenza sanitaria, quando la centrale del centro 18 sarà spostata a Parma ma pensiamo a delle soluzioni che possano ovviare a questo problema, pensiamo ai problemi del lavoro, della nostra terra, come rilanciare dal punto di vista turistico Piacenza, insomma, da come darle del posizionamento che Piacenza può avere un po' più strategico e sicuramente politico in campo regionale. Sono problemi oggettivamente che sono lontani dalle problematiche nazionali ma che ci riguardano direttamente.